Buongiorno, sono Dossi Daniele della società agricola Canova di Isola della Scala, ci troviamo a Verona. Noi oggi portiamo come innovazione la SD Liner 3000 della Cuna, macchina da sodo cui abbiamo utilizzato per fare erbai, soia, sorgo, prati stabili, coietto, frumento, colture invernali e anche estive. Una cosa che tengo a precisare è che ho visto da tenere sotto controllo le infestanti quando si va sulla semina e anche da tenere sempre sotto controllo le irrigazioni, non troppa acqua, essendo che il terreno non tende a drenare. La nostra azienda si occupa di foraggi, abbiamo tutta la filiera per fare un ottimo foraggio dei macchinari Cuna, lo facciamo e lo commercializziamo il foraggio, abbiamo due facce condizionatrici, girello, andanatore e rotopressa della Cuna.